buongiorno amici e ben ritrovati oggi piccola recensione di questo ottimo coltello anche se abbastanza economico della morack knife azienda svedese che produce ottimi coltelli questo è il modello companion con lama brunita come vedete altrimenti c'è la classica lama in acciaio io ne possiedo due sia questo che quello con la classica lama in acciaio beh anche questo acciaio diciamo solo che questa è annerita brunita quindi dicevamo l'azienda svedese acciai quindi che utilizzano svedesi vedete made in sweden ottimi ottima fattura ottimo acciaio corredato dal suo dalla sua custodia in plastica con cui si può benissimo far passare dentro la cintura in maniera molto molto semplice sollevando la clip qua la qualità del generale del coltello e la sua costruzione veramente veramente eccezionale nonostante costi relativamente poco ottima impugnatura molto ergonomica fatta in polimero con uno strato leggermente gommoso qua che migliora appunto la presa la lama è veramente di eccezionale qualità l'altro l'ho utilizzato moltissime volte e il filo è ancora è ancora perfetto quindi per chi necessita di un coltello tutto fare a poco prezzo assolutamente consigliato come sempre sotto in descrizione troverete il link per l'acquisto grazie per la visione a presto ciao ciao